la macchina ci ha buttato per l'aria all'improvviso è scesa dalla macchina come sono scappato il mio amico che stava scappando vicino a me ha sparato la macchina è uscita dalla macchina è uscita dalla macchina la macchina è un pastardo si a ne cura d'arei si a ne cura d'arei si a mongiorito che stai mai correndo diet si a mongiorito che stai da lunga stai da lunga di 3 minuti si a mongiorito la macchina si a mongiorito la macchina appena s-a agitato appena s-a agitato si a mongiorito la macchina si a mongiorito la macchina è brutale da qui l'ora qui l'ora hai sparato dove eri quando è successo? si a mongiorito si a mongiorito la macchina si a mongiorito la macchina ci facevano uscire cose che fanno tutti giù se ne è fuso sott'altro posto i blocchi che non portavo neanche i sui motori che quando è pronta la casa mi ha smettato il giubino e il cappellino stava un ragazzo davanti lui in mezzo un altro diro Cioè, quando l'ha votata, quando l'ha investita, soccato di a terra posta, non l'ho messo, non l'hanno fuori. E io se l'ho sparata. Macissimo, sono morto pure. Mio figlio lo mantenevo io, io faccio la domestica e lo mantenevo. Giocava a pallone, poi aveva smesso perché era scocciato, perché nessuno soccato, ero bravo. Nessuno soccato, aveva scelto un po' di chiudere. E io l'ho chiamato un figlio. A me è stato marato meglio. Niente, né casa, né lavoro. Io abito sotto una cantina. E mi ha fatto questo bello regà. Mi ha acceso pure a figli. E no. Non mi ha dato un figlio. Non mi ha dato un figlio. Non mi ha dato un figlio. Non è possibile. L'hanno visto che ero morto in terra. E l'hanno fuori mezza folle. Chi mi ha chiamato la vacca, che è impazzita. E stava impazzita mezza folle. Non l'hanno visto. L'hanno rita i wagioni. Tutto quanto l'hanno rita l'hanno dato. Perché quando è venuta la wagioni, mi chiamano. Ha detto, signor, faccio la ruota perché sta stessa in terra che è in mani. Dite, lì no. Stessa in terra che un killer, stava morto in terra. La donna ha ripetuto. A me è stato marato mai niente. Né casa, né lavoro. In casa mi stavano tutti disoccupati. Ora mi ha fatto questo bello regalo, ma al finale mi ha accettato il mio figlio, senza niente, senza motivo, che il mio figlio non stia facendo niente. Se posso guardare e provo che il mio figlio non stia facendo qualcosa, è brutto. Che sicuro, tanto tanto, il mio figlio è studiato. Cinque minuti, cinque minuti per morire una persona, cinque minuti, cinque minuti.